Dopo un'apnea infinita è finalmente arrivata l'emersione e, si spera, l'inizio di un'ascesa che consenta di abbandonare il mare agitato della bassissima graduatoria. La convincente vittoria di lunedì sera a Bergamo con l'Albino Leffe, giunta dopo ben 11 turni di astinenza, ha ovviamente aperto uno squarcio di luce improvviso in casa Propiacenza, che torna ora a sperare nell'opportunità di una salvezza diretta lontana ora un punto soltanto. Dopo 11 gare senza vittorie, questo 4-0 ha fatto molto bene anche al morale. Sì, ha fatto molto bene, però è stato anche un grande piacere perché poi alla fine bisogna ricordarsi che abbiamo lavorato tanto, anche se non abbiamo raccolto molto. Lunedì scorso è venuto fuori tutto e adesso siamo più liberi anche mentalmente. C'è però il Bassano, secondo della classe, sulla strada dei ragazzi di Viali, che domenica alla Rino Mercante andranno a caccia di quella che sarebbe un'autentica impresa. Senti di essere un perno, un punto di riferimento adesso per la squadra? Non lo so, io cerco sempre di dare il massimo per la società, per i miei compagni e per tutti quanti, perché quando mi sono fatto male comunque la società mi è stata molto vicina, quindi quando entro in campo cerco di dare il meglio di me stesso per aiutare la società, i miei compagni e tutta la gente che ci vuole bene. Il tecnico rosso-nero non dovrebbe stravolgere l'undici visto all'opera all'Atleti Azzurri d'Italia, con Alessandro che tornerà dopo il turno di squalifica ma sembra indirizzato verso una domenica al fianco dell'allenatore in panchina. È invece allarme per Ruffini. Il giovane difensore ha interrotto anzitempo la seduta odierna a causa di alcuni problemi al ginocchio sinistro.